benvenuti da FTA online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com le borse sono in attesa del dato sul CPI statunitense di gennaio in uscita alle 14.30 la volatilità per oggi è ridotta anche se il fuzzimib in questo momento è comunque in guadagno è difficile quindi andare a fare previsioni sugli indici prima che sia uscito il dato del pomeriggio da notare che domani sempre alle 14.30 uscirà anche il dato sulle vendite al dettaglio statunitense anche quello da seguire con grande attenzione quindi non è detto che la borsa decida già oggi di muoversi potrebbe anche attendere poi il dato del pomeriggio di domani in attesa di novità ci concentriamo sul settore energy che è interessante da notare che ieri con una borsa americana ben impostata solo il settore energy di tutti quelli dell'S&P 500 si era dimostrato in difficoltà questo è il grafico del settoriale appunto relativo al mercato americano questo è il grafico di lungo termine vedete che siamo arrivati con i prezzi recenti molto vicini a quelli che erano i massimi del giugno del 2014 quindi questa lunga scalata che c'è stata dai minimi del 2020 ha avuto per adesso decisamente successo quello che vediamo dai minimi che sono stati toccati a luglio dello scorso anno è un movimento che per adesso si è realizzato in tre segmenti attenzione quindi perché nonostante il fatto che i massimi di novembre siano superiore ai massimi che erano stati toccati a giugno c'è ancora il rischio se questo movimento rimarrà in tre segmenti che il rialzo visto dai minimi di luglio sia una parte diciamo la parte intermedia del movimento correttivo che appunto era partito dai massimi precedenti praticamente la teoria delle onde di Elliot ci dice che le fasi di correzione di tipo fletto ovvero sia quelle che si muovono lateralmente possono anche essere considerate tali se il massimo intermedio quindi quello che è l'elemento intermedio della correzione supera il massimo dell'origine del movimento precedente pertanto il rischio di essere in una situazione di questo tipo dove manca ancora un'onda ribassista per completare la sequenza resta attivo vedete abbiamo avuto una prima discesa molto rapida poi c'è stata questa fase dell'imbalzo caratterizzata da un primo movimento un secondo movimento e un terzo movimento che potrebbe essere appunto l'onda B ora questo primo ribasso e questa discesa se l'ipotesi ribassista è vera devono essere la 1 e la 2 dell'onda C e quindi vuol dire che i prezzi non dovranno tornare al di sopra del massimo del 14 novembre a 7,25 circa per confermare questa ipotesi se le quotazioni dovessero salire sopra 7,25 verrebbe negata all'idea che manchi ancora questa linea rossa per completare la correzione si potrebbe invece immaginare una nuova fase rialzista anche di ampiezza elevata almeno nell'ordine del 10% siamo quindi molto vicini alla resistenza per adesso non ci sono motivi per andare a comprare perché sotto la resistenza ovviamente non si compra però è un mercato da seguire con attenzione se guardiamo quello che è successo al settoriale europeo intanto vi faccio vedere che ovviamente c'è una notevole similitudine tra i due grafici quindi se li mettiamo a confronto vedete sono quasi sovrapponibili le due curve per quello che riguarda il settoriale Eurostox di cui questo è il codice se volete andare a ritrovare le quotazioni abbiamo una situazione simile anche qui c'è stata una prima discesa molto molto violenta poi questo rimbalzo disegnato in tre segmenti ora nel caso dell'Eurostox il rimbalzo che c'è stato dal minimo di inizio febbraio è arrivato molto vicino ai massimi di gennaio quindi qui se ci fosse il superamento di questa linea orizzontale verrebbe negata subito l'ipotesi ribassista e si potrebbe immaginare un proseguimento del trend al rialzo quindi 3,62 e 3,63 sono una quota cruciale sopra quei livelli verrebbe confermata l'idea che con la rottura dei massimi di giugno dello scorso anno il trend al rialzo di medio e lungo termine è ripartito fino a che siamo sotto invece 3,62 e 3,63 c'è il rischio che questi siano dei massimi di periodo e che da questi livelli parta una fase di ripiegamento ben più consistente andiamo a guardare il future sul petrolio anche qui facciamo un confronto tra il prezzo del greggio e il settoriale questo è il settoriale che stavamo guardando prima dell'SMP 500 vedete c'è una stretta correlazione che si è mantenuta fino a metà dello scorso anno poi la correlazione si è un po' persa è vero che negli ultimi mesi si è mosso lateralmente il future sul prezzo del greggio si è mosso lateralmente anche il settoriale però c'è questa decisa impennata che si è evidenziata sul grafico del settoriale che non è visibile invece sul grafico dei prezzi del petrolio diciamo che non è comunque difficile andare a studiare anche il grafico del prezzo del greggio grazie proprio alla presenza di questa fase laterale se ci sarà la rottura della parte alta della fascia vuol dire che questa zona era una zona di accumulo e ci possiamo aspettare con una rottura di alzo un bel movimento di crescita il che vorrebbe dire che sia l'euro stocks oil and gas sia l'SMP energy hanno spazio per riprendere il trend rialzista se invece sul future del prezzo del greggio non ci sarà la rottura di area 82 83 dollari e soprattutto se invece poi ci sarà la violazione di area 72 questa fase laterale si dimostrerà un rettangolo quindi una figura di continuazione del trend ribassista precedente che potrebbe tranquillamente riprendere andando a correggere una porzione ancora maggiore della salita precedente vedete non siamo arrivati neanche sul 50 per cento per adesso quindi un proseguimento della correzione è del tutto plausibile cosa possiamo dire riguardo ai principali titoli del comparto a livello italiano quindi Eni e Tenaris anche qui facciamo un confronto con il settoriale e vedete nel caso di Eni c'è una discreta corrispondenza tra il comportamento del titolo e il comportamento dell'indice ora se andiamo a guardare il titolo vediamo che proprio con la seduta di ieri del 13 febbraio i prezzi sarebbero saliti al di sopra del massimo del 16 novembre quindi nel caso di Eni se andiamo a guardare quest'idea che dal massimo di novembre si è partita una fase di diciamo una nuova fase ribassista di lungo periodo e questa ipotesi è stata decisamente messa in discussione quindi c'è ancora guardando i settoriali il margine visto che non ci siamo allontanati molto dalla resistenza dalla resistenza per assistere alla ripresa del ribasso ma veramente basta un filo di convinzione in più da parte del mercato per prospettare un movimento rialzista quindi se guardiamo Eni si può essere moderatamente positivi sicuramente più positivi rispetto di quello che si può fare guardando gli indici quindi sopra area 14,70 se ci sarà una nuova chiusura di seduta oltre quei livelli si potrebbe iniziare a ipotizzare un movimento verso i 16,50 euro al nero per quello che riguarda Tenaris siamo invece in un ambito un pochino più complicato perché qui vedete il movimento di ribasso è stato seguito come abbiamo visto negli altri casi da un rialzo che ha comportato il superamento dei massimi precedenti però come abbiamo spiegato questo non è necessariamente un motivo per pensare che il trend rialzista di lungo sia ripreso lo sarebbe se Tenaris riuscisse a completare una seduta almeno di sopra di area 17 euro in quel caso tutta questa fase laterale si dimostrerebbe un rettangolo e quindi sì che ci sarebbe spazio per una crescita di almeno altri 2,50 euro fino a quel momento è evidente che una fase laterale di questo tipo con due massimi allineati sui stessi livelli può anche essere vista come un doppio massimo quindi una figura potenzialmente ribassista sotto i 15 euro il doppio massimo avrebbe completato e il titolo rischierebbe di scendere fino a 112,50 almeno quindi direi che si può guardare sicuramente Eni con maggiore interesse perché è vicinissimo anzi è al di sopra dei livelli critici tenendo però presente che non basta la rottura da parte di Eni per sbloccare la situazione fino a che i settoriali non saranno anche loro con un'impostazione rialzista Tenaris potrebbe diventare la prova del 9 nel momento in cui tutti virano al rialzo se anche Tenaris si porta di sopra di area 17,17,50 allora vuol dire che veramente l'idea di una correzione a ribasso deve essere accantonata vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero grazie Grazie a tutti.